Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi ci giochiamo la semifinale tra Berrettini contro Montgomeri per questo torneo Sydney Championship qua su HowTennis2. Prima di andare in campo vi ricordo cari amici di iscrivervi per favore al canale, di mettere un like al video se vi è piaciuto e di attivare la campanellina. Detto questo andiamo in campo per la semifinale Berrettini contro Montgomeri. Buona visione. Tutto è pronto, lancio della moneta, scegliamo testa. Vediamo se andremo a ricevere o a servire Bariabal Servizio Montgomeri in questo primo set. 15-0 per il nostro sfidante. Ok. 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 No, sulla rete. 30-0 Montgomeri. Siamo partiti male. C'è attenzione in questo match semifinale. Out. Va a sbagliare Montgomeri. 30-15. Accorciamo le distanze. Primo punto per noi. No, auto. Peccato. 40-15. No, nu. Vizia, vifia, vingua, vingua. Piazza. Sivilliamo voi. Cosa? Piazza. È piazza. Piazza. Bello rovescio Niente La chiude così Montgomery 1-0 per lui Andiamo al servizio Non sono riuscito a fare un punto Lo abbiamo fatto solo perché ha sbagliato lui Bello rovescio 15-0 Matteo Berrettini Forza Azzurro È il momento di rialzare la testa Ancora Berrettini 30-0 per noi Siamo partiti bene Uno scambio Un scambio infinito Bravo Out 40-0 Montgomery Cade dopo uno scambio lunghissimo 28 scambi La andiamo a chiudere 1-1 Al servizio Montgomery Siamo stati bravi Non abbiamo fatto fare neanche un punto al nostro avversario 15-0 Doppio fallo Al servizio Siamo avanti noi Eccolo Eccolo Il 30-0 Forza Matteo Auto 40-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 1-0 Matteo Berrettini Va al sorpasso su Montgomery Dai 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 No Cosa ha preso Out Lo porta all'errore Il nostro Matteo Berrettini 30-0 Bello Manzi scusatemi 15-0 prima Ora siamo 30-0 Errore mio Montgomery in affanno Nooo Nooo Non l'ha preso 30-15 Errori banali 30-30 pari Ben rovescio da parte di Montgomery Va a sbagliare Va a sbagliare però In ricezione Montgomery 40-30 Match point per noi Match point Matteo Berrettini Eh parità Parità 40-40 Uh cosa ha preso Uh cosa ha preso Out Match point Out 3 a 1, primo set primo match per noi uscita, uscita a servizio Montgomery out, molti errori, molti errori ne dobbiamo approfittare di questa cosa 15-0 Berrettini 30-0 ancora l'errore di Montgomery ci è rimasto piantato 13 i numeri di scambi nell'ultimo punto out 40-15 match point per Matteo Berrettini out 1-0 per noi nooo sulla rete 15 pari bello non ci arriva Montgomery rovescio strepitoso a due mani di Matteo Berrettini 15 pari out nooo bello Berrettini con il piatto 30-15 bravo 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 ho provato col tocco morbidissimo Montgomery ma non ci è riuscito Berrettini sotto rete bravissimo e andiamo 14-15 match point per noi questo punto mamma mia mi era rimasto bloccato bravo Matteo ancora ancora out 2-0 Matteo Berrettini che vede vicinissima la finale di Sydney del torneo Sydney Championship c'è rimasto l'ultimo set l'ultimo punto eh l'ultimo match scusatemi errore al servizio per Montgomery sembra stremato il nostro avversario out molti errori non ce la fa più ne dobbiamo approfittare 15-0 per Matteo Berrettini che vede vicino alla finale ok mamma mia cosa aveva preso Montgomery ma il suo il suo servizio dopo la ricezione è andata fuori out 30-0 per noi falla al servizio andiamo sotto rete e va va Matteo Berrettini 40-0 match point per andare in finale no lunga 40-15 riapre i giochi Montgomery dopo il nostro errore out Matteo Berrettini è in finale al torneo Sydney Championship eccolo qua che si va a prendere il meritato applauso del pubblico di Sydney grande Matteo dopo aver battuto il semifinale Montgomery Montgomery 1-3-0-3 Matteo Berrettini è in finale contro Davids quindi dal prossimo episodio cari amici andremo ad affrontare la finale sperando di portare a casa il primo trofeo in questa fantastica carriera con Matteo Berrettini io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video qua con me Gabino 90 ciao a tutti grazie a tutti